Ciao, ecco finalmente svelata la novità a cui stavamo lavorando nelle ultime settimane. Pech in the Box, la nostra scatola delle sorprese. Volete scoprire insieme a me cosa contiene? Adesso vi mostro. Un pacchettino di tessuti di una collezione appena arrivata, tagli da 30x55 cm, già tutte belle abbinate fra loro. Con gli stessi tessuti abbiamo realizzato nel nostro laboratorio dei quadernini rivestiti di stoffa, dentro pagine bianche per tutti i vostri punti e le vostre idee creative. Un jelly roll, molto pecho victim, sia per il fiocchetto che per i tessuti. 20 strisce di tessuti, tutti diversi, tutti bianchi e neri. E visto che la creatività non è solo dietro la macchina da cucire, una delle nostre ricette, un nostro cavallo di battaglia, la ricetta della crostata di ricotta, in maniera che possiate provarla e dirci se vi piace. Infine, una piccola chicca, un bottoncino rivestito di stoffa. Questi saranno tutti diversi perché tutti avranno un dettaglio delle nostre stoffe preferite. Grazie.